Il Nephilim ha compiuto l'impossibile. Sconfiggendo la morte, ha riscattato gli angeli e salvato l'umanità intera. In quell'istante, però, con la vittoria a portata di mano, ho visto il Nephilim sotto una nuova luce. È un eroe capace di sconfiggere i campioni del Paradiso e dell'Inferno. Un crociato che protegge gli innocenti. Ma in lui batte un cuore mortale, che un giorno potrebbe essere tentato dalla corruzione. Quando giungerà quel giorno, avrà la forza di resistere? Oppure sarà la nostra rovina? 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 Grazie a tutti.